Manca poco per la tanto attesa sfida fra il Canicattie e la San Cataldese, che domenica prossima, 19 novembre, alle ore 14.30, si guarderanno negli occhi in occasione della quattordicesima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Una domenica da evidenziare in rosso per entrambe le squadre, alla ricerca di punti preziosi per esorcizzare la zona calda della classifica. Per la San Cataldese, reduce dal pari in casa contro il Real Casal Nuovo, la vittoria manca da più di un mese quando al Valentino Mazzola si è dovuto arrendere il città di Sant'Agata. Ma lì un periodo di flessione fra battute di arresto e pari che ha fatto scivolare il sudalizio verde amaranto a soli due punti dalla prima casella che conduce ai play-out, attualmente occupata dall'Ocri. Ma se Sparta piange, di certo Atene non sorride. In casa Canicattì, infatti, c'è da arrestare un'annemia di risultati che ha visto la società bianco-rossa perdere le ultime quattro partite in un'involuzione di rendimento che ha condotto il Canicattì in piena zona play-out, a solo un punto, proprio dalla San Cataldese. Un autentico scontro diretto, quindi, in cui entrambe le squadre tenteranno di portare a casa l'intera posta, consapevoli che l'eventuale pari sarebbe un regalo alle altre contendenti. Intanto, in casa Verdamaranto, il presidente Lacagnina ha dato il benvenuto al nuovo direttore sportivo Marco Rizzieri, a cui la società si affiderà a partire dal prossimo ormai imminente calciomercato, per tentare di invertire la rotta grazie a qualche nuovo arrivo che vada a migliorare la rosa a disposizione del tecnico Sclafani. Questo il programma della quattordicesima giornata di Serie D, Girone I. Domenica alle ore 14.30, Canicattì San Cataldese, Trapani San Luca, Gioiese Licata, Ragusa Siracusa, Real Casal Nuovo, Nuova Igeavirtus, Vibonese Città 10 Reale, alle 15 Acregas Fenicia Maranto Reggio, Città di Sant'Agata Portici. Grazie.